Riecco la nostra carissima amica Cristina. Cristina si è operata il 28 aprile 2011, quindi un anno e mezzo fa. Cristina dai, aggiornaci un po' sulla tua situazione. Grazie al cielo la situazione è rimasta invariata rispetto a sei mesi fa. Riassumi per favore brevemente un po' tutte le... Le fasi di miglioramento, comunque le fasi per ora si può dire di stabilità. Sì. Allora, subito dopo l'intervento c'è stato un miglioramento evidente del cammino e soprattutto della stanchezza, di quello che era legato a una difficoltà addirittura a stare a lungo seduta rispetto allo stare sdraiata, che ormai era una condizione che più spesso di quanto mi sarebbe piaciuto dovevo stare, dovevo mantenere. E invece dopo l'intervento la schiena mi teneva molto più su, la deambulazione era migliorata, insomma una serie di miglioramenti di stanchezza, ma anche di tono dell'umore generale, insomma. E grazie al cielo questa condizione da un anno e mezzo si sta mantenendo. Francamente c'è stato, per dovere di cronaca, un miglioramento molto più spiccato nel primo mese dopo l'intervento. Dopo il primo mese c'è stata una lieve flessione, che però, come ho detto prima, grazie al cielo non è continuata e si è stabilizzata in un miglioramento rispetto al pre-intervento che tuttora persiste, insomma. Ok Cristina, vuoi aggiungere qualcosa oppure ci saluti? Ciao! Allora ci vediamo alla prossima, così se vuoi ci puoi continuare ad aggiornare sulla tua situazione. Senz'altro, grazie. Grazie a te.